Caro amico del web ben ritrovato, oggi abbiamo tenuto una importante conferenza stampa di presentazione della estate mantovana, è un insieme di iniziative che abbiamo titolato estate a Mantua, un invito a rimanere a Mantua, un invito per chi rimane a Mantua a vivere la città, un invito a venire a Mantua, è un cartellone di eventi, di manifestazioni in città che si svolgeranno dai primi giorni di giugno sino alla fine di settembre, un ricco e articolato programma di manifestazioni che abbiamo organizzato per rendere vivace l'estate in città e per soddisfare un pubblico ampio e diversificato con spettacoli teatrali, con spettacoli per bambini, opere liriche, concerti, balletti, film, mostre, convegni, incontri e molto altro ancora. Quindi stiamo predisponendo un'importante brochure, stiamo predisponendo anche una presentazione dei singoli eventi che si svolgeranno in città e insomma, come dire, oltre 270 eventi che si snoderanno nell'arco dei quattro mesi estivi con 112 spettacoli che saranno a pagamento a costi modestissimi e ben 91 iniziative ad ingresso gratuito. Vi saranno 30 luoghi che ospiteranno questi 270 eventi, vi saranno 18 rassegne, 63 concerti musicali, opere, 16 spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche nella recuperata e ritrovata Piazza Castello, insomma un programma articolato per tutti i gusti, un programma colto, un programma anche di divertimento, un programma con iniziative leggere, un programma che coinvolge la capacità creativa dei mantovani, un invito quindi a venire a Mantua, a stare a Mantua e quindi venite e state a Mantua.